Il Meteo è presentato da Ristorante da Kira Gas Con montà e risparmio siamo aperti tutto l'anno Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il Meteo Dopo questo lungo periodo di tempo instabile di stampa invernale Per questo fine settimana la nuova espansione dell'alta pressione dall'Oceano Atlantico Verso tutto il bacino del Mediterraneo e quindi anche verso la nostra penisola Garantirà condizioni di tempo più stabile e soleggiato Tuttavia un debole afflusso ancora nei bassi strati di aria fredda dai Balcani Manterrà i valori termici specie nelle prime ore del mattino inferiore alla media Con diffuse gelate notturne anche in pianura Andiamo quindi a vedere le condizioni previste per la giornata di venerdì Quando avremo un cielo generalmente soleggiato su tutte le zone Salvo locali addensamenti stratificati più insistenti nelle prime ore del mattino Lungo la fascia costiera e sui settori meridionali della provincia I venti saranno generalmente moderati settentrionali in graduale attenuazione Il mare è generalmente mosso Le temperature per venerdì saranno stazionare un temporanno lieve calo nei valori minimi Con punte ancora attorno ai meno 7 e meno 10 gradi nei fondovalli appenninici Dove si potranno verificare anche diffuse di intense gelate Vediamo le condizioni previste per la giornata di sabato Quando come si può vedere dalla grafica non avremo sostanziali variazioni Quindi ancora cielo generalmente soleggiato Salvo locali temporanei addensamenti cumuliformi durante le ore pomeridiane lungo l'appennino I venti saranno generalmente deboli di direzione variabile Con locali rinforzi da nord e nord ovest lungo la costa Mare generalmente poco mosso Le temperature per la giornata di sabato saranno lieve aumento Specie nei valori massimi Che sulla costa si aggireranno attorno ai più 6 e più 8 gradi Clima ancora decisamente freddo nelle prime ore del mattino Specie sui settori pianeggianti interni dove avremo diffuse forti gelate Vediamo infine le condizioni previste per la giornata di domenica Come possiamo vedere dalla giornata di domenica Un debole flusso di aria più umida e instabile da nord ovest Favorirà un graduale aumento delle nubi Quindi ci attendiamo un cielo generalmente parzialmente nuvoloso Con addensamenti più insistenti Specie nel corso del pomeriggio sera Ad iniziale dai settori appenninici Dove durante la nottata si potranno verificare anche locali deboli precipitazioni Che potranno assumere carattere nevoso oltre 500-800 metri Questo sarà il preludio di un nuovo possibile peggioramento Che si verifica all'inizio della settimana Che potrà determinare ancora una volta L'arrivo di nuove precipitazioni nevose sul settore collinario appenninico Anche se per questa tendenza abbiamo ancora bisogno di ulteriori conferme da parte dei modelli Per concludere vediamo le temperature previste per la giornata di domenica Che saranno stazionare un ulteriore lieve aumento Sia nei valori minimi sia nei valori massimi Tuttavia si potranno verificare ancora delle diffuse gelate notturne Durante le ore del primo mattino Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento Grazie a tutti